ciao a tutti ragazzi oggi vi voglio fare un mix intero di un mio brano nuovo tra l'altro che finora non vi ho mai fatto sentire così tanto per cambiare un po anche il tipo di musica e ve lo voglio mixare con solamente i plug in dell'arturia quindi preamplificatore i compressori di lei eccetera eccetera ok quindi partiamo subito ve lo farei sentire dall'inizio si chiama crystal ed è questa canzone scusate 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 Grazie a tutti. 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 Ok. Grazie a tutti. 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 tutti i plug in. Grazie a tutti. e tutti. Grazie a 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 tutti. con questi due. con la kick. Grazie a tutti. con la fine. 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 con la fine.